da sempre le storie spesso le trovo nel fondo delle pagine cioè cerco di leggere non il fondo di una tazzina di caffè ma il fondo di un quotidiano e anche di dare ascolto alle voci delle persone per captare delle storie delle storie minime perché penso che in questi trafiletti ci sia qualcosa di non scritto che però si può si può prendere si può leggere l'invisibile capire che lì in quella notizia c'è una grande storia come quella di un villaggio in cui da decenni il referendum per la luce artificiale diceva sempre no alla luce artificiale perché tutti preferivano il buio ma a un certo punto vince la luce e allora io li ho pensato voglio andare a trascorrere l'ultima notte senza luce lì c'è la storia che prende le mosse da un trafiletto da un articolo di poche battute diventa un racconto più ampio ecco quello che faremo in questo corso in trafiletti è proprio portare le storie dai margini delle pagine alla prima pagina la prima pagina di un racconto e anche alla prima pagina di un libro io sono valerio millefoglie e vi aspetto al nuovo corso online della scuola holden trafiletti grazie a tutti grazie a tutti